Il 2023 è stato un anno particolarmente favorevole al Partito Democratico, almeno nei sondaggi politici È andata male, invece, a Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio, letto in questa maniera, può però essere fuorviante La realtà è che il partito della Presidente del Consiglio resta saldamente primo nelle intenzioni di voto, nonostante i punti persi, e il PD non è mai riuscito veramente a riavvicinarsi agli avversari Certo, i DEMA hanno vinto il confronto interno con i grillini, ma poco conta. L'ultima supermedia dell'anno, realizzata come sempre da AGI e IOTRENT, analizza i dati dei sondaggi di oggi, confrontandoli con quelli di un anno fa Il bilancio politico del 2023, tuttavia, non è così semplice.Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle crollano, bene il PD Il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini, secondo i sondaggi politici, è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni Nonostante una netta flessione rispetto a un anno esatto fa meno parliamo del meno 1,5% la Presidente del Consiglio e i suoi restano stabilmente in vetta con un 28,8% totale che ha ancora il sapore del semi plebiscito Il partito democratico di Ellis Klen, però, nonostante un netto passo avanti rispetto alla fine del 2022, non va oltre il 19,3%, i DEMA ottengono un più 3,3%, ma non basta per avvicinarsi davvero agli avversari Certo, il 2023 è stato l'anno in cui il PD ha sorpassato di nuovo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece è crollato del meno 1,3% e chiude al 16,3% Forza Italia rosicchia punti alla Lega, crescono Verdi e Sinistra.L'altra partita interessante è quella interna al centro-destra, la Lega e Forza Italia continuano a contendersi il ruolo di seconda formazione di maggioranza, con il Carroccio ancora avanti Il partito guidato da Matteo Salvini, però, perde lo 0,2% in un anno e scende 8,8% Esattamente quanto ottenuto alle elezioni politiche di un anno e mezzo fa, non una buona notizia, mentre quello passato in mano ad Antonio Tajani dopo la morte di Silvio Berlusconi registra proprio un più 0,2% e sale al 7,1% L'azione di Carlo Calenda è al 3,8%, impossibile fare il confronto con un anno fa, quando faceva parte dell'ex terzo polo L'altra anima del fu partito centrista, Italia viva di Matteo Renzi, è stimata al 3% Tra i due segna un ottimo risultato l'Alleanza Verdi e Sinistra, in crescita dello 0,3% al 3,7% Chiudono le intenzioni di voto più Europa al 2,5% più 0,2% Italexit 1,6% Freschissimo dell'uscita di scena del suo leader e fondatore, meno 0,6% Unioni Popolare 1,4% meno 0,3% e Noi Moderati 1,1% meno 0,2% Un ottimo risultato, meno 0,3% 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 meno 0,3